le uniche macchinette che bisogna capire come funziona dai wolf vediamo se ce la fai te introdurre la moneta dove? non si sa ma lì non funziona qua metti la moneta vien giù sotto direttamente qui la metti qua vien giù qua e dai utile attenzione anche concetta non ha avuto successo attenzione attenzione occhio ma entra ma dove escono? non riesco non per me ha una camera guardatevi credito zero 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 ma mi hanno rubato i soldi scusa il prodotto è sceso aspetta che funziona così occhio eh sale in cattedra giro tac ecco tac vai due tac perfetto tac ehi niente devi stare qua così voglio rovinarmi un euro occhio si rovina Coco vai eh no perchè lo giocattino scassino tu credit zero one play eh attacchi forse sarà pieno forse sarà scassato andiamo di là magari c'è un altro anfratto con un'altra macchinetta no c'è un'altra galleria è caldo è caldo caldo non ci darà io e quest'uomo ci vogliamo vedere ci abbiamo portato in firma dal titolo vogliamo ricordarlo volessi bene non ci darà i soldi a questo sport niente oh non si da pace va non è possibile magari ci vuole la password dai ci ha un po' di Zepini mi fate male si o ne vuoi metterci ma noi vogliamo IF mi sa che è